E' stato l'inno alla gioia a salutare il lieto evento alle scuole elementari di Premosello Chiovenda. Sono nati una decina di pulcini, ma come si chiamano? Allora, uno si chiama Zorro, un altro Chicco, un altro Spillo, poi c'è Giotto, Gino, Smile Ma perché sono di colori diversi? Perché sono di razze diverse, anche l'uovo è di colori diversi Ma quanti giorni hanno? Allora, il primo quello nero, questo qua, ha tre giorni, l'ultimo quello nato è questo e ha un giorno Prima di essere messi nel recinto con la lampada però stanno in incubatrice? Devono stare nell'incubatrice perché nell'uovo si bagnano un pochino e perciò si devono asciugare Ma quanto tempo l'uovo e poi il pulcino deve stare in incubatrice? Appena l'uovo viene messo nell'incubatrice deve stare dai 18 ai 21 giorni E una volta nati devono stare nell'incubatrice 24 ore Una volta tolti dall'incubatrice, i pulcini che cosa devono fare? Allora, quando li togliamo dall'incubatrice dobbiamo dargli l'imprinting, insegnarli a mangiare e bere Ma tutte le uova vanno bene nell'incubatrice? No, solo quelle fecondate Ma perché c'è un pulcino nel bicchiere? Perché quel pulcino è nato con le zampine così e quindi per raddrizzare le gambine bisogna legarle e metterlo in un bicchiere Ma quando li avrete svezzati che fine faranno questi pulcini? Li adotteremo e li faremo portare a casa da chi al pollaio Perché questo progetto? Dunque, il sogno di vedere nascere i pulcini a scuola e di fare questa esperienza è un sogno che abbiamo coltivato da tempo Perché in questa scuola abbiamo già fatto esperienze simili in passato Abbiamo levato insetti stecco, girini e l'anno scorso bacchi da seta È un progetto portato avanti da una classe pilota ma che coinvolge tutte le classi A livello interdisciplinare ci sono approfondimenti in tutte le possibili discipline Il progetto è realizzato senza costi per l'istituto Perché la ditta che produce l'incubatrice ci ha fornito gratuitamente tutto il materiale e tutta l'attrezzatura